bello precedente abbastanza da esaurimento devo dire oh veleno che esplode posto sono fatto solo male ok passaggio quindi devo scendere e andare lì nel passaggio ok ah basta che ti avvicini scoppiano e che devo fare aspettare se li posso proprio saltare oh picco dai 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 me lo sono preso lo stesso no per guardare il numero di teschi sono caduto come un idiota però il teschietto me lo ha già preso quindi possiamo andare addirittura addirittura va bene con la precedente è leggermente più difficile comunque è vero più vanno avanti già che te li fanno facili pieno zeppo di medikit esplora la parodomefitica beh c'è poco e nulla da esplorare qui veramente nulla va bene finito ok lancia granate abbastanza inutile poi qui ci riprendiamo tutte le munizioni non ci si passa dietro il lancia granate può servire a distruggere ok abbiamo capito prendiamo il lancia granate e ora altre granate no ah quello laggiù vuole ok ce l'abbiamo c'era da fare solo questo qui a posto trovo e apri il primo dei tre passaggi aperto boom schiattata in quantità ah vogliamo fare i diamantini qui sopra come stambecchi energia non ci serve quanto ci servono invece le munizioni qua sotto tutto veleno schiatto schiatto si ovviamente dovrà equipaggiare una maschera anti-gastri oh 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 vacci piano secondo cancello oh tizio enorme che viene a romperci le balle no già schiattato ah però è ultra velenoso passaggio là sotto in mezzo al veleno il veleno si dissolve perfetto quindi possiamo andare anche qua dietro ah c'è un teschio prima tanto sti teschi se non li pigli tutti sì ok proprio ho bisogno di una maschera anti-casso questa cura la sfera what the fuck che è stupido quello che vuol dire cura la sfera vediamo un po' ah forse devo metterla su quella a fare che cura l'energia dove sta qua sopra sicuro proviamo ci sono un po' suicidato però la mossa è servita aia ci sto a fare tipo malissimo aia aia dove sta questa cosa vediamo che ci sta qua sopra ha fatto bene non sprecarci il tempo medikit cura la sfera dove sta allora allora dobbiamo capire dove cazzo la devo portare sta sfera eccola qua ci sto a fare ci sto a fare ci sto a fare ci sto a fare no 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 l'ho fatta l'ho fatta cosa mi da se cura la sfera potenza potenziamento salute meno male non ho sprecato il mio tempo monteschia allora quindi ora mappa passaggio crypt 2 passaggio andiamo qua sotto non 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 lo non 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 che non non ah le tasche ho freddo a tutti Oh se resta lì qua Oh oh mi sa di lanciagranate qui allora fam la e sbandi qua ho aperto pure il secondo trovo e apri il secondo passaggio completato ci squarta questa cosa passaggio script a 2 cioè che sta qua qui dove sono passaggere ok può andare di qua da sopra corampino no lancia oh cazzo queste le granate ti fai male da vicino non vanno tutto va bene qua ma che si può fare da di qua da di qua oh 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 fuck ok sono andato fino a di qua ok questo è il ponte che era sulla mappa ok bene vediamo un po' dove dobbiamo saltare non qui non qui non qui è così e qua e qua bene ok ora devo aprire il terzo passaggio passaggio 3 passaggio cripta 3 quindi devo andare fino a sotto passaggio di qua allora tiriamo questo che succede allora 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 con questo lancio razzi alla mano devo correre di qua colpire questo poi di qua questo stessa cosa ok easy qua lo sappiamo che ha aperto quello dai prova l'ultima passaggia ora basta era tornare lì dove eravamo prima guarda quanti ne sono oh ok 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 easy qui ah mi devo portare giù quella palla ah senza vento munizioni ce l'ho fatta a meno di 30 secondi andiamo sopra un po' che ci sarà un bel niente io questi teschi li prendo ma tanto non li prendo mai tutti deve essere abbastanza inutile vediamo tomba dell'isola devo andare sopra in qualche modo qua ok questo vedrete l'oscurità che lo specchio mi ha mostrato ah vediamo un po' tirare questo tirare questo che problemi hanno devo passare sopra c'è il giro di qua ah vai che c'entriamo lo stesso ok ok Grazie a tutti.